vedi gli da un bacio il ciri guarisce è come quando è vero no ciccio se la cambi questa qua dammela a me ascoltami te mi dai questa qua io ti do la mia come no cazzo due pezze la tua due pezze c'ha la tua cazzo ho comprato una stringa su internet 7 comprese anche di mastici se ne volete pure spero di non provare oggi provare se tiene su quella del sergio sergio ti sta muovendo tutti i tasselli ti sta muovendo tutti i tasselli ma io non posso comprare una moto che costa 16 mila euro e poi mi buca anche la gomma una volta la gomma una volta la gomma una volta non c'è dentro l'olio una volta la fruccello adesso con la stringa lì fa la differenza in 50 anni che andiamo in moto è la prima volta dai si non dire cazzate non dire eh non dire eh non dire cazzate che non si è parvenuto prego a te non c'hanno mai niente basta mettere la benzina prego 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 quanti ne vuoi due o tre c'è qua tutto eh c'è qua tutto eh pure bella eh cazzarola verde stile naturale va che lo buca anche il circo adesso eh eh questo eh quello mi sembra giusto sempre di plastica giusto oh te scherzi adesso che mi sono capotato là mi è mica andata dentro la cosa del freno nello stivale e mi sei agganciata dentro fino a sotto qua no no non mi ha fatto non riuscivo più a tirarlo fuori perché ero giù nell'erba al contrario e non riuscivo più a tirarlo fuori gli gridavo aiuto a questo questo non mi ha aiutato no ma io ma te guarda che questo c'avevo dentro il coso fino in fondo lo stivale non riuscivo più tirarlo fuori eh e per quello che gridavo aiuto bravo metterci in nuova che scivola che non lo voglio l'hai aperto però eh un circo guarda che non è ancora aperto il tubo no ma metti gli astriche basta no ma metti gli astriche basta basta o metti gli astriche lì e basta basta e si appiccicoso metti gli astriche lì e basta sputa sopra ci circo che la tua appiccica avanti che la tua appiccica tanto la punta dovrebbe essere aperto no quello serve per uscirlo come non li metterlo come non li metterlo ecco se lo credo lì metti gli astriche lì noi una l'abbiamo usata per aggiustare la parede del cambio eh non avevamo niente era fuori dal mondo che cazzo fai cacciate dentro quella lì un pezzo poi l'ho macinata dentro un pezzettino che girava basta andate fino a casa bella beata dobbiamo allargare no no Marcel vieni in parete Sandrino si capisce perchè è cinese vuoi la mia mala puoi metterli a meditare? 108 eh la cosa? la mala la mala un amuleto la cosa? la cosa? la cosa? la cosa? la cosa? ecco ecco voi siete lì tutti no il Matteo c'è già anche lui siete a posto tutti c'è anche qui uno spettacolo come sempre e vediamo come ci va a freddo e si trova Grazie a tutti.